Unione Europea, molti stati membri boicottano il vertice dei ministri degli interni organizzato dalla presidenza ungherese inviando rappresentanti minori. Guerra in Ucraina, la diplomazia, Zelensky incontra Parolin, ancora attacchi di droni russi in particolare nella regione di Kherson. È iniziato a Budapest il vertice informale di due giorni dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione Europea. Ma l'incontro, come altri eventi informali organizzati negli ultimi giorni dalla presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione Europea, è stato boicottato da diversi stati membri con un livello inferiore di rappresentanza. Alcuni dei politici presenti hanno definito la mossa un'espressione di opinione. Credo che sia una reazione verso l'attività ungherese, magari non adeguata all'esterno europeo. Non ho alcuni commenti su questo. Sono segretario francese degli stati. Il ministro degli interni ungherese, Sandor Pinter, ha sottolineato che i partecipanti hanno convenuto che senza la cooperazione la sicurezza dell'Unione Europea non può essere garantita e che le sfide devono essere affrontate più rapidamente. Il ministro dell'Unione Europea non può essere garantita e che le sfide devono essere garantita per le sfide del compagnole. Questo può cambiare la sicurezza dell'Unione Europea. Grazie a tutti i colleghi partici per le riunioni regolari. Konyarita, Euronews, Budapest. 15 insediamenti sono stati presi di mira nelle scorse ore nella regione di Kherson. Sono state danneggiate 30 abitazioni, un edificio commerciale, un gasdotto e delle automobili. Zelensky ha dichiarato che il programma missilistico del suo paese si sta sviluppando in maniera dinamica. Ci stiamo gradualmente avvicinando alla possibilità di utilizzare i nostri missili, ha dichiarato, e non solo di affidarci a quelli forniti dai nostri partner. Dal canto suo Mosca ha reso noto che sta svolgendo esercitazioni militari con missili balistici intercontinentali Yars in grado di trasportare un carico nucleare. Un comunicato del Ministero della Difesa russo ha dichiarato che il personale militare sta eseguendo azioni di manovra intensive. Si tratta della seconda tranche di addestramento nel mese di luglio. Tra i deputati che girano per i corridoi del Parlamento europeo, ce n'è uno che non cammina mai da solo. È Giuseppe Antoci, seguito in ogni suo spostamento da alcuni agenti della polizia. Da presidente del Parco dei Nebrodi, in Sicilia, aveva ideato un protocollo per evitare che i soldi dei fondi europei destinati all'agricoltura finissero in mano ai clan mafiosi, colpendo uno dei maggiori canali di finanziamento della criminalità organizzata. Per questo, racconta, è diventato un nemico della mafia. Diventare un nemico significa iniziare per prima cosa con le minacce, far capire che non devi andare avanti e se vai avanti arrivare, come si dice, fino all'ultimo miglio. Ciò è accaduto a maggio del 2016, dove io sono stato colpito dall'unico attentato di mafia dopo le stragi del 92. Io sono il primo uomo delle istituzioni che viene colpito con un'altra attentata a stragi. Insieme a me, quattro valorosi uomini alla polizia di Stato, quella notte dopo quel violento conflitto a fuoco, mi hanno salvato la vita e mi hanno riportato a casa da mia moglie e dalle mie figlie. Il regime di protezione speciale a cui è sottoposto deve essere replicato anche all'estero. Quindi, dopo le elezioni all'Eurocamera con il Movimento 5 Stelle, Antocci mantiene la scorta a Bruxelles-Strasburgo e avrà un ufficio con misure di sicurezza speciali, senza nessuna vetrata sull'esterno. Da eurodeputato promette di occuparsi di ciò che conosce meglio, la criminalità organizzata. Io ho già proposto una risoluzione per l'istituzione della CRIM, la commissione che si occupa della criminalità organizzata, è stata istituita solo una volta in Parlamento europeo. Noi abbiamo idea che le mafie sono globalizzate, noi abbiamo idea che la criminalità organizzata è presente in tanti territori, in tanti Stati europei. Anche da europarlamentare la sua è una vita di rinunce e limitazioni, ma Antocci non ha dubbi, ne vale la pena. Puoi morire in una strage di mafia, come stava accadendo a me, quei valorosi poliziotti. Ci saranno poi, ci sarebbero state le commemorazioni, le lapidi, i ricordi, giusto così. Però sei morto, una volta. Poi c'è un altro modo per morire, che è quello di alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio, sapere di non aver fatto il proprio dovere, sentirsi sporchi, sapere di non poter passare all'altra stanza, incrociare le tue figlie e continuare a dire loro che la vita va vissuta con rettitudine, senza abbassare lo sguardo e la schiena. E allora quello specchio ti uccide ogni giorno. Nei prossimi cinque anni, l'ex presidente del Parco dei Neborodi farà parte della Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo. Sarà governo centrista ad interim, fino alle Olimpiadi, per evitare disordini. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, congelando di fatto la nomina del primo ministro in quota al nuovo fronte popolare, la coalizione di sinistra uscita vincente dalle recenti elezioni legislative. Poco prima dell'intervento di Macron, la sinistra ha indicato come primo ministro la poco nota funzionaria Lucy Castel. Il paese ha bisogno di un governo per prendere le decisioni, per preparare un budget, per prendere le decisioni per il paese. E quindi, di modo evidente, fino alla mi-aoù, bisogna essere concentrati sui giochi. E poi a partir di là, in funzione di avanza di queste discussion, sarà mia responsabilità di nominare un primo ministro o una prima ministra, e di lui confiere la tâche di constituere un governo, e di avere il rassemblement più grande che gli permette di agire e di avere la stabilità. I gruppi polacchi per i diritti delle donne hanno protestato martedì a Varsavia contro la bocciatura da parte del Parlamento di un disegno di legge volto a modificare la restrittiva legislazione sull'aborto del paese. Diversi gruppi femminili hanno organizzato la protesta nel giorno dell'ultima sessione del Parlamento prima dell'inizio della pausa estiva. Il 12 luglio la Camera Bassa ha respinto il disegno di legge sulla depenalizzazione dell'aborto, che stabiliva che chiunque avesse assistito una donna nell'interruzione della gravidanza non sarebbe stato perseguito. Le leggi polacche sull'aborto sono tra le più severe d'Europa, in particolare puniscono l'assistenza all'aborto con un massimo di tre anni di carcere. Almeno 14 persone, tra cui 11 vigili del fuoco, sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato a Cascais, vicino alla capitale portoghese Lisbona, secondo quanto riportato dai media locali domenica. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale per essere controllati per l'inalazione di fumo, ma non hanno avuto bisogno di ulteriori cure. L'incendio è scoppiato poco dopo mezzogiorno e ha causato danni a un centro ippico. I vigili del fuoco hanno evacuato 30 cavalli. Sette incendi ancora ardono nella Macedonia del nord. La situazione peggiore è tra le città di Stip e Negotino, dove gli incendi si sono estesi per 30 chilometri sul Monte Serta, nella parte meridionale del paese. Le autorità hanno dichiarato che altri 22 incendi sono stati localizzati o spenti. Per il settimo giorno consecutivo continuano gli sforzi per domare gli incendi a Boliarovo, in Bulgaria, vicino al confine con la Turchia. Non c'è pericolo per gli insediamenti limitrofi, ma i focolai tra i villaggi di Voden e Crainovo rimangono attivi. Sono anche arrivati i primi sette container per l'alloggio temporaneo dei più bisognosi. L'incendio ha colpito circa 73 mila ettari di terreno. Stellantis ha lanciato la produzione di Fiat Panda elettriche nella sua filiale serba, con una cerimonia a cui hanno partecipato il presidente serbo Aleksandar Vucic e l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Ormai due anni fa i rappresentanti del governo serbo e di Fiat Chrysler Automobiles avevano firmato un accordo per un investimento congiunto di 190 milioni di euro nello stabilimento di Krakiewicz. La Fiat Grande Panda, questo è il nome del nuovo veicolo, sbarcherà dapprima in Europa, Medio Oriente e Africa e sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. At the Stellantis car factory in Kraguevac, the production of the Fiat Grande Panda electric vehicle officially began. As announced by the company, in addition to the electric model, a hybrid model of this vehicle will also be producted in Serbia. Stellantis company officials announced that in the future, Stellantis will have to use its knowledge and innovation to deal with the fierce Chinese competition in the production of electric cars, which the production cost in China is 30% smaller than in the West. President Vucic said that Serbia is the only country in the Western Balkan region that has an electric car factory, but that in the future work must be done on installing greater number of electric chargers. Dusan Ilić, Euronews, Serbia. Dusan Ilić, Euronews, Serbia.